Allora mi dicevi che per far passare i cavi devi mandare dentro una sonda, no? Sì, dove è possibile che ci sono le tubazioni che possono essere utilizzate, mandiamo delle sonde e poi dopo viene attaccata la sonda dei mini tubi e questi mini tubi vengono trainati all'interno con la sonda e quindi poi dopo dentro nei mini tubi si mandano le fibre, i cavi per le fibre, per proteggerli Ho capito, però io ti dicevo, ma non esistono le telecamere per vedere dove si ferma il tubo, dove si blocca? Ci sono delle telecamere, però siccome noi abbiamo delle tratte che sono lunghe, anche 200 metri la telecamera col cavo che è più flessibile della sonda non riesce ad entrare a sufficiente quindi tende a piegarsi e poi non riesce ad andare avanti più di tanto quindi si utilizza la sonda perché la sonda è fatta in vetro, fibra di vetro ed è rigida con dentro delle anime diciamo in acciaio dove resta più rigida e quindi è possibile farle entrare perché poi sopra vengono messe delle rotelline o dei sistemi ovali dove non va a picchiare contro spigoli o angoli diciamo La mia osservazione era questa, siccome vedevo i tubi da di fuori che erano tutti zigrinati ti dicevo come fa a passare questo filo dentro un tubo zigrinato se ci sono delle cube? I tubi sono o rigidi diciamo che sono lissi oppure sono diciamo corrugati ma con dentro una guaina lissia Ah ok ecco questo mi toglie un problema che hai risolto per me Oh vi ringrazio siete stati... Ah poi mi dicevi che quando c'è qualcosa con un blocco così devi scavare... Quando ci sono dei blocchi che la sonda non va dentro allora ritogliamo la sonda e mettiamo una testa alimentata batteria sulla testa della sonda la mandiamo dentro con uno strumento esterno che riceve la frequenza magnetica di questa di questa sonda diciamo di questa capsula che è sulla sonda individuiamo il punto dove si deve scavare per liberare il tubo o comunque ripristinare il tubo per passare la sonda per poi trainare E poi mi hai detto che ci fai un pozzetto lì Si vengono fatti dei pozzetti se necessario oppure viene ripristinata la tubazione e poi si prosegue Oh io ti ringrazio grazie mille ciao grazie Salute Ciao Ciao